Di Don Ruspa com'era la situazione e com'è cambiata con lui? Con lui è cambiato tutto, è cambiato tutto, una persona molto intelligente, molto umana con gli altri, con tutto. Io non ho parola, quando ieri ho sentito che lei diceva guarda sai che è morto. Addirittura quando lui era alle revisioni, che era ancora un ragazzo, andava là e portava la caramella a tutti gli operai. Tanto per dire l'umanità che ha sempre avuto e me l'ha fatto conoscere lui avendo la zia qua nell'istituto. Perciò andava con loro, accompagnava le revisioni lontano, fuori e dice che è sempre stato umano con tutti. E con gli anziani, questo lo ripeto, è quattro anni. Anche con gli anziani è una persona, anche qua in ultimi momenti la prendevamo, dai accompagnami su, si è una persona che, ci diamo una mano. Veniva alla chiesa qua dall'acqua, ci prendeva un braccio, ma accompagni fino qua che vado alla chiesa. Lui diceva, l'accompagno su, lui no 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 vado da sola, si si. E poi le dico con gli anziani, diceva la santa messa e poi finita andava a dare un bacio, un saluto a tutti questi vecchietti. E a noi un conforto, una parola, veramente non abbiamo niente da dire, è una persona super stupenda. Farò il ricordo, più che me lo ricordo, quando lui è andato all'ospedale, che siamo venuti e sono andato su a trovarlo, mi ha detto mettiti a sedere che adesso diciamo due parole con te. Mi ha tenuto dieci minuti, un quarto d'ora, un mezz'ora, adesso non me lo ricordo, poi mi ha detto adesso devo andare. Lui era un uomo del fare e quindi se oggi siamo qui, c'è la chiesa nuova, l'asilo, la casa della gialla del sole, io credo che queste sono le cose importanti e significative da ricordare. E nessuno in questi giorni ha ricordato quello che lui ha fatto all'epoca del sequestro di Angelis, ha fatto una cosa veramente straordinaria e difficile anche per un essere umano di consegnarsi nelle mani dei banditi sardi così inerme e quindi praticamente alla loro completa disposizione. E credo che questo è un atto di amore e di rinuncia alla propria vita che è una cosa assolutamente straordinaria. assolutamente umano, lui trasmetteva un senso di umanità guardandolo, sentendolo parlare, eccetera. Quindi questo è il carattere più distintivo che tengo nella mente, oltre a tanti ricordi personali, perché lui era sostanzialmente, essendo nato qui in questa chiesa, ha cominciato a frequentare la Maserati e quindi è sempre stato di famiglia e quindi come tale lo continuo a considerare un po' oggi.